ripassi di paolo luporini pan secco raccolgo il pane avanzato da un po tutto il vicinato è difficile che io lo lasci seccare anche duro me lo voglio mangiare al massimo mi faccio la panzanella o lo ammollo col sugo della padella raccoglierlo mi costa nulla senza sforzo le galline gradiscono il pastone ed il frutto del loro sforzo le uova fresche sono la mia compensazione una loro misurata razione